tipo Pamela di San Mignato, ma perché sono legato a Pamela? Perché è quella che piace un po' di più e questa è la verità ma anche senza parrucca riesci a farla si a voglia, posso andare avanti anche tutti i giorni quindi quando ti chiama dice Jonathan vieni e pronta a tavola ma questo è un format veramente bellissimo, istituzionale ci sa anche le osse della regione lo dite e c'hai un lavoro nobile ma perché mi hai chiamato via a fare Pamela di San Mignato? ragazzi e ragazzi bentrovati alla quarta puntata del podcast Siamo Presente il podcast di Giovani Sì il progetto della regione toscana per l'autonomia dei giovani abbiamo raccontato storie di nostri coetanei che ci hanno aiutato a credere molto di più in chi? in noi stessi, nella nostra capacità di decidere il nostro futuro proprio nel presente e lo facciamo anche in questa quarta puntata con un ospite che in realtà potrebbe essere 10 ospiti perché è un attore, è un regista, è un autore, è un comico, è un interprete è tantissime cose in una parola potrei definirlo è un toscanissimo ci sono i toscani ma ci sono anche i toscanissimi e questo toscanissimo ha un nome e un cognome che voi conoscete sono più di 400.000 le persone che lo seguono sui social che lo incontrano a teatro signore e signori, ragazzi e ragazzi, Jonathan Canini è con noi buonasera a tutti tutto bene? tutto bene tutto bene a parte la seduta che è terribile no, a dire la verità no, è troppo comoda infatti rischia veramente di non farmi più alzare ha preso la mia forma e quindi sono un po' bene dai, prepariamo il muletto o la gru per rialzarti fra una mezz'oretta allora ragazzi, ben trovati di nuovo con Jonathan vogliamo raccontare la storia di un under 30 di un ragazzo che non ha ancora 30 anni che è un toscanissimo dalla provincia di Pisa ma che riesce incredibilmente ad essere davvero non solo pisano un po' livornese, un po' fiorentino un po' toscano un ibrido sono un ibrido perché ho la fortuna di venire da una famiglia molto variegata cioè ho i parenti sparsi in ogni parte della Toscana ho parenti di Rivorno, di Pisa, di Firenze, di Gampogadino che tanti dici Gampogadino è in Garfagnana in Garfagnana? sì, sì, è in Garfagnana praticamente nel comune di Castelnuovo se te continui a montare su la montagna a un certo punto trovi questo paesino dove ora chiaramente non credo ci abiti più nessuno salvo qualche pastore e io ho veramente lo zio Dino di Gampogadino che ho tramutato Dino? Dino Dino di Gampogadino infatti io stavo cercando l'ispirazione per trovare un personaggio prima è Dino di Gampogadino è Dino per forza è lui per forza e quindi diciamo mi sento appartenere alla Toscana non ho una vera e propria città d'origine diciamo così infatti quando mi chiedono questo me lo chiedono spesso qual è la tua città toscana preferita? e io gli rispondo guardate io non è che voglio fare devi stare attento a rispondere sì, molto chiaramente quando sono a Pisa dico Pisa in buono è chiaro no, a dire la verità io non ho una vera e propria città preferita perché io se chiudo gli occhi e mi immagino la Toscana mi immagino un vialone sterrato con i cipressi e con magari un bel sienile che si perde all'orizzonte delle colline quella per me è la Toscana poi chiaramente le città mi piacciono tutte oggi siamo a Firenze infatti oggi Firenze è la più bella senti come ti definiresti? io ti ho dato tanti titoli è difficile darne uno solo non lo so diciamo un essere umano e non è poco che tenta di emozionare il pubblico chiaramente diciamo mi è venuta abbastanza naturale fare contenuti comici o comunque provare a fare contenuti comici perché ritorno alla mia famiglia io mi sento molto fortunato perché nella mia famiglia bene o male la risata non è mai mancata anche nei momenti più brutti perché è sempre tutto rosa e fiori però si è sempre cercato di sdrammatizzare anche le situazioni più brutte con una battuta insomma si è sempre stato i toscani in caso sì sì assolutamente con l'ironia del toscanazio sì sì assolutamente senti allora partiamo un po' dal passato partiamo da un ragazzo che nasce nel 1994 quindi sei alla soglia dei 30 anni e io sono curioso di capire questo ragazzo dove è cresciuto allora sono cresciuto a Santa Maria Monte provincia di Pisa provincia di Pisa e praticamente in un paesino dove non è che ci sia chissà cosa c'è un laghetto di pesca sportiva e l'arno e anche il campetto da calcio infatti le uniche mie due occupazioni diciamo della gioventù sono state la pesca e il calcio purtroppo la scuola non diciamo non rientrava tra queste passioni tra questi talenti c'è una battuta che non si rita anche nello spettacolo e dico il mio percorso scolastico non è stato già chiamarlo percorso diciamo oppure un viottolo sterrato perché devo dire ho fatto 5 anni di ragioneria tutti in prima e in seconda e questa Alessandro Taglia tagliamola per cui sono cresciuto in questo paesino e anche lì sono stato fortunato poi alla fine perché a differenza di una città dalla provincia sì assolutamente in un paesino di mille abitanti tutti sono un po' messi sotto una lente di ingrandimento perché ovviamente non è che passano 500 mila persone al giorno da quella unica via per cui tutte le volte ad esempio mi ricordo al circolo il classico circolino di paese quando entrava un forestiero noi loro lo chiamavano forestiero quando entrava qualcuno che non si conosceva si scrutava dalla testa ai piedi si cercava di notare anche i minimi dettagli perché sono detto siamo tutti messi sotto una lente di ingrandimento e mi è servito tantissimo per la costruzione per la caratterizzazione di tutti i miei personaggi poi alla fine quindi si scrutava tutti scrutavo tutti tutti no ma cioè praticamente io come te lo posso dire io ho iniziato a fare cabaret a 16 anni circa avevo un gruppo di ragazzi dove facevi ragioneria a Ponte d'Era a Ponte d'Era a lì a Enrico Fermi a Enrico Fermi sì non mi ricordavo neanche noi perché non è che ci sia andato molto mi fermavo un pochino prima al bar c'era un bar quello te lo ricordo quello me lo ricordo praticamente io iniziai a 16 anni mentre tra l'altro studiavo un po' lavoravo un po' studiavo inizia a fare questi video sui social che però non ebbero molto successo ci avevano 15 20 30 visualizzazioni di cui 10 mia e le altre della mia nonna che andavo a vedere no praticamente eravamo una sera al circolo con mio carissimo amico e praticamente entrò un signore lo rivornese entrò un signore rivornese che cercava il lago perché abbiamo detto prima c'è solo ma c'è una gente insomma iniziò un pochino a ragionare con questa barista rivornese e noi ovviamente tutti quelli che stavano al bar si sentiva si origliavano si capivano quando questo signore è andato via ovviamente tutti quelli nel circo iniziarono a fargli l'invitazione e io improvvisai così da giullare sedicenne no no qui no siamo un po' più in su avrò avuto 20 21 22 anni insomma più o meno era un migliore di preciso e praticamente improvvisai questo dialogo davanti a questo mio amico che si divertì talmente tanto che mi disse Gionatino i video che fai te sono bellini sono bellini ci mancherebbe ma perché non provi a farne uno in vernacolo e subito gli disse Renzo si chiama Renzo assolutamente no alla scuola di cinema quasi ci imponevano una dizione più pulita possibile per essere comprensibili in ogni parte d'Italia quello che mi sta dicendo è tutto l'opposto poi ho detto vabbè tanto peggio io sì nel senso invece 20 visualizzazioni ne farò 30 feci questo video lo caricai alle 10 di sera un orario vuol dire non proprio consono per caricare contenuti e in una notte praticamente questo video se esce più di tutti gli altri messi insieme quindi disse porca miseria allora anche alle persone ma spiegaci meglio cioè ti carichi il video su YouTube vai a dormire vai a dormire che succede nella notte la notte ho dovuto mettere il silenzioso perché questo telefonino era un continuo suonare io pensai ovviamente a qualche mio amico che mi stava facendo uno scherzo quindi mi si silenzioso il giorno dopo vado ad aprire questo video aveva fatto tipo 49 50 mila visualizzazioni tantissime disse non è possibile non ci deve essere qualche ma ci ho messo un po' per rendermi conto che in realtà veramente il vernacolo poteva avere questa forza sul web perché non ci avevo minimamente mai pensato e da lì poi ne sono susseguiti altri ne ho fatti altri e il pubblico si è ampliato e poi ho iniziato anche un percorso teatrale vero diciamo perché quello che facevo prima era molto improvvisato senti ma Jonathan Carini bambino cosa sognava di fare del grande? il calciatore senza ombre di dubbio il calciatore attaccante io ero mezza punta mezza punta di solito giocavo a destra a sinistra nel tridente però ero proprio malato di calcio forse troppo perché dopo gli allenamenti io tornavo a giocare nel campetto di paese con i miei amici e tante volte venivo anche sgridato dall'allenatore che magari lo veneva a sapere perché ovviamente voleva preservare i suoi giocatori giocavo nel Ponte d'Era nel Ponte d'Era e a San Maria al Monte nel campetto esatto in Santa Maria al Monte senti e quando è che arrivi a decidere di andare a ragioneria? non l'ho deciso io l'hanno deciso gli eventi perché ci andavo un mio amico io volevo far contenti i miei genitori non ci avevo neanche mai pensato alle superiori perché per me purtroppo la scuola a quell'epoca era vista proprio come quasi una gabbia io non riuscivo a seguire qualcosa che mi veniva imposto da altri volevo studiare ciò che mi interessava era proprio una mentalità molto ribelle chiamiamola così per cui quasi per far contenti i miei ho scelto la ragioneria poi alla fine perché io volevo fare il meccanico poi c'è stato il periodo meccanico che era proprio nel periodo dove dovevo scegliere le superiori però hanno optato per consigliarmi la ragioneria io ho dato letta a loro ma senza non avevo un obiettivo per l'amore di Dio e matematica proprio tutto il contrario della mia sorella che invece studia matematica infatti e nei primi anni com'è stato vivere in questa classe dove magari potevano esserci amicizie insomma le materie erano un po' pesanti come l'hai vissuto quel momento un momento un po' tragico per quasi tutti non è facile a 13 anni capire cosa andare a fare per 5 anni assolutamente i primi due anni sono stati abbastanza anzi no ti dico il primo anno meglio del secondo perché perché ebbi la fortuna di ritrovarmi in una classe dove c'erano tanti bocciati e quindi tanti che avevano già la mentalità che avevo io insomma quindi non davano molta importanza alla scuola è una cosa di cui mi pento amaramente perché chiaramente poi ho trovato molte difficoltà andando avanti però diciamo legai subito con un paio di ragazzi e diciamo il primo anno è passato abbastanza bene l'anno perché io invece no non sono passato per niente mi hanno bocciato infatti l'anno dopo mi ritrovai con quelli più piccoli di me di un anno dove non legai molto bene con qualcuno ma poi erano tutti bravi mi ricordo quella classe erano tutti bravi e io ero l'unico ciugo come si dice a Santa Maria Monte e per cui ho faticato un po' più che altro perché sapevo che non era la mia strada cioè economia aziendale per me era una roba perché non hai cambiato? probabilmente perché in realtà non avevo interesse nello studiare cioè io volevo andare a lavorare a me mi piacevano le moto le macchine mi piacevano tutt'oggi mi piacciono iniziai a fare dei lavoretti così a scappatempo per gli amici sistemavo il motorino truccavo il motorino truccavo non si può dire non si può dire passato prescrizione passato ormai è passato troppo tempo niente si può dire poi insomma chiesi un pochino in giro nelle officine della zona se c'era qualcuno disposto a prendermi avevo anche trovato qualcuno per cui l'unico freno era l'età perché se non mi sbaglio i miei genitori mi dicevano che prima dei 16 anni non si può ammornare gli studi è una cosa vera sì ecco pensavo che fosse una cosa l'articolo 34 della costituzione dove si dice appunto che ce l'obbligo almeno a fine 16 anni sì sì io tanto bevo bevi 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 il tavernello no non si può fare pubblicità non scherziamo è acqua è acqua naturale è acqua confermo poi insomma si vedrà nel corso della puntata e quindi niente decidi di restare lì avevi un obiettivo i 16 anni per liberarti di questo peso bravo senti tornando indietro che avresti fatto? tornassi indietro probabilmente il classico tornassi indietro il classico perché mi è sempre piaciuto scrivere mi è sempre piaciuto leggere e mi piace anche proprio creare le storie nel senso ovviamente avere un lessico un pochino più ampio ti aiuta molto quindi Jonathan Canini che ha fatto ragioneria che probabilmente in quegli anni si era pentito perché avrebbe voluto fare meccanica oggi dice avrei voluto fare il classico sì sì esattamente ma pensa senti chi è stato cioè qual è stato il motivo che ti ha portato a non apprezzare la scuola cioè il gruppo di amici la mentalità del paese la scuola media no no purtroppo la tua indole che in quel momento avevi più voglia di andare a lavorare purtroppo ho un grossissimo difetto quando vengo tra virgolette obbligato a fare qualcosa è più forte di me non ce la faccio non ci riesco proprio quando vengo obbligato non do il massimo voglio essere libero di poter studiare quello che mi pare come mi pare chiaramente non si può fare grazie al cielo però purtroppo il mio carattere mi impone questo e probabilmente è stato è stato il motivo per il quale non ho concluso perché poi paradossalmente quando mi mettevo a studiare mi bastava poco poi alla fine per prendere voti più che sufficienti e questo faceva arrabbiare ancora di più i miei genitori perché allora vedi quando studi il disegno però è stato un bagno di sangue poi praticamente ogni volta che bocciavo i miei giustamente mi portavano a lavorare con loro e non era per farmi lavorare era per farmi capire diciamo cosa succede se insomma non si apri non studia eccetera e io la vedevo chiaramente come una punizione quindi praticamente non ho mai fatto i classici tre mesi di vacanza che fanno gli studenti perché ogni volta purtroppo quando venivo rimandato a settembre quando bocciavo comunque in qualsiasi situazione o studiavo o lavoravo per cui no è stata proprio una liberazione quando ho smesso di studiare è stata veramente una liberazione ci sono stati in quei tre quattro anni più o meno che ho lavorato sia in falegnameria da babbo facevo il lustrino non so se probabilmente questo no è capace forse sì sicuramente ci sarà quindi quando un legno ha le schegge lo devi esattamente esattamente poi gli davo il fondo diciamo lo preparavo alla verniciatura mi davo il fondo lo stuccavo poi lo ringrattavo di nuovo e poi era pronto per la verniciatura diciamo un lavoro cosa facevi mobili? mobili mobili sì arredamenti vari anche per esterno ti piacevano più le persiane o i mobili? i mobili le porte? mamma mia sì sì più lisci erano meglio perché si faceva molto prima però a volte capitavano anche non so se c'è presente quei tavoli con le gambe tutte terribili mamma mia a mano lì e nel mezzo faregname no 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 perché ci sono cresciuto e quindi non era possibile ma c'è stato un periodo proprio l'odiaso con tutto il mio stesso mentre invece ora adoro andare a trovare mi babbo e mi mamma che lavorano tutti per l'azienda di famiglia e guardarli sì guardarli ma un po' mi garba l'odore anche l'odore che c'è del coppale dell'acquaraglia del diluente e probabilmente per questo sono un po' forse di isolare tutte le stesse soltanto stiacidi stiacidi però cioè è stato un periodo veramente formativo mi ha insegnato più quel periodo piuttosto che la scuola anche perché la scuola purtroppo cosa ti ha insegnato cosa hai imparato in fare in neueria col babbo mi ha insegnato cioè mi ha fatto capire quello che non volevo fare che non è poco che non è poco assolutamente ma io lo ripeto sempre spesso vado in creato e tante volte vado a vedere anche degli spettacoli di necchia magari degli spettacoli un po' particolari che magari tante persone non apprezzano anche non apprezzano e non si limitano a tenerselo per sé questo sentimento ma lo esterno insomma però mi insegnano molto anche questi spettacoli magari non proprio di successo perché mi insegnano a capire cos'è che non devo fare sul parco per cui un esempio cerchi la critica cerchi sì no no fortunatamente guarda sì va bene qualche dritta non la chiamerei proprio se la chiamerei più dritta non ho ricevuto anch'io ci mancherebbe dell'altro però fortunatamente tipo gli haters gli haters non ce l'ho sì ho i bot i bot per li farsi però insomma mi ripeto molto fortunato perché tante persone magari che hanno seguito simile al mio invece hanno proprio senti quanti anni avevi quando esplode il fenomeno Jonathan Canini sui social 2018 quindi avevi 24 24 anni senti e in classe facevi un po' il comico ero il giullare perché non sapevo fare altro per cui l'unico modo per essere il protagonista sì essere percepito essere un po' ci sono un po' l'attenzione sì sì esatto era far ridere in qualche modo mi ricordo facevo l'imitazione dei professori sì ma poi se c'era da dire una brischerata ero sempre in prima fila e quindi cioè poi alla fine anche i compagni si divertivano come non erano però appunto non lo abbiamo mai legato più di tanto perché loro volevano studiare e io no molto tempo senti e quando esplode il fenomeno Jonathan Canini hai ritrovato amici che avevi perso e che dicevano caspita quello veniva in classe con te sì 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 ma in modo molto genuino molto mi ha fatto tanto piacere sì è capitato è capitato come è anche capitato che gente che all'inizio magari prima che questi video andassero virali queste persone chiaramente venendo da un paesino di mille abitanti e tanti mi prendevano in giro io mi ricordo entravo nel bar eccolo è arrivato l'attore no nel senso vedi e alcuni di questi hanno avuto anche il coraggio di chiedermi i biglietti omaggio per me in teatro insomma quindi e dentro di te quando ti magari ti prendevano in giro ti sottovalutavano cosa provavi delusione no delusione no rabbia rabbia tanta ti ha aiutato questa rabbia sì sì certo certo assolutamente da rabbia sana sì 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 perché poi questa rabbia è stata tramutata in qualche modo in energia e probabilmente se non avessi provato questo sentimento tante cose che ho fatto poi non è che abbia fatto questa cosa però nel mio piccolo mi sono tolto delle soddisfazioni enorme anche soprattutto con il teaso ma se vogliamo andare ancora in ghieso anche ad esempio il primo lungometraggio che si fece che si chiamò quanta fila c'era presente anche su youtube cioè mi ha permesso di capire veramente quello che volevo fare anche se chiaramente non ha avuto il successo che si sperava sognando a occhi aperti perché io mi immaginavo non so l'hai visto no? non l'ho visto l'accolta praticamente facevo teatro con una compagnia teatrale vicino a dove abito teatro sperimentale e scrissi una storia basandomi sui personaggi che avevo a disposizione e che mi avevano dato la disponibilità per girare qualcosa in estate e io non me lo feci dire due volte scrissi questa sceneggiatura che gli presentai dopo pochi giorni e a giuglio proprio nel mese più fresco dell'anno ovviamente abbiamo deciso di fare questo esperimento girato in una ventina di giorni circa e un progetto a perdere totalmente e io mi ricordo lavoravo ancora in falegnameria poi facevo il cameriere la sera un giorno dissi ai miei babbo mamma io mi licencio perché voglio fare i film i miei genitori risposta ovvia te te lo sei fatto un bel film tanto sta che mi licenziare davvero d'estate si girò questo esperimento e cosa successe si fece la prima al teatro comunale di Santa Maria Monte per la prima volta io che venivo già da cabaret nelle piazze nei circoli il pubblico era composto da miei amici e parenti voglio dire non avevo mai visto una platea piena quel giorno alla prima di Oquanta Filacera il teatro di Santa Maria Monte era pieno non perché ci fosse un interesse da parte della comunità erano tutti parenti degli attori presenti nel film però era pieno era pieno e vedere credimi ce l'ho ancora stampata negli occhi quella immagine perché ovviamente ci sarebbe un po' di timore perché magari ora arrivano questi si aspettano chissà cosa invece un film amatoriale in realtà avevano capito il contesto avevano capito la situazione e le persone si divertirono nel vedere queste persone divertirsi ridere per una cosa che avevo scritto mi fece dire ok questa è la mia strada io devo provare a fare questo in tutti e dove eri seduto in quel teatro in fondo in fondo perché ogni tanto uscivo nelle scene doppiate perché si doppiarono malissimo che non essendo doppiatori andava tutto fuori tempo proprio quelle scene dove volevo vedere e quindi quando c'era lei andavo via e poi ritornavo dopo e quando sentivi ridere la sala dentro di te dentro di te descrivimi il cuore dentro no è una gioia immensa come quando rivedi un tuo amico dopo tantissimo tempo o qualcuno alla quale vuoi tanto bene lo rivedi e lo abbraccio e penso che sia sentire ridere il pubblico credo che sia l'emozione probabilmente più bella che provo insomma indescrivibile indescrivibile e infatti e i tuoi che ti avevano detto te lo sei fatto un bel film in testa e in realtà l'avevi fatto purtroppo videro una prima versione di Quanta fila c'era dove c'erano più pezzi doppiati cioè poi sono stati tagliati e mio mamma mi ricordo mi mise in mano Jonathan è bellino ma te sei sicuro di farlo uscire e io dissi mamma certo ma si taglia ora questa è la prima versione però diciamo li capisco adesso perché all'epoca dicevo ma dicevo sì perché voi volete che torni a lavorare in Falegna Maria in realtà era tutto il contrario veramente io ad oggi li capisco perché dico cavolo loro avevano questo figliolo che pensava di fare un film e di andare a Hollywood subito è chiaro che un po' di timore c'era è chiaro che non mi potevano dire vai sì certo andrà sicuramente così mi preparavano al peggio perché avevano paura però quell'ingenuità forse è servita perché se non ci fosse stata non sareste mai partito ingenuità presunzione assolutamente sì sì ci doveva essere e meno male c'è stata perché quel momento quel preciso momento dove le persone appunto ridevano applaudivano mi ha dato la carica anche per andare avanti dopo perché poi chiaramente dopo questa esperienza i teatri tornarono ad essere anzi nemmeno i teatri le piazze i circoli dove mi chiamavano per portare lo spettacolo continuavano a essere semi vuote c'erano i miei parenti i miei amici però comunque ma il ricordo che avevo di quel teatro pieno durante la produzione di Quanta fila c'era era indelebile nella mia mente e poi mi sono iscritto alla scuola di cinema anche grazie a questa esperienza e poi diciamo dopo altri spettacoli mi sembra ho fatto Canini come i denti e ti parlo degli spettacoli dopo Quanta fila c'era e palcoscemico mi sembra questi due e poi dopo questi due c'è stato poi il fenomeno social deriva dal covid no prima prima 2018 quindi già sui social prima del covid sì perché poi col covid il teatro lo abbandoni purtroppo no purtroppo mi ricordo facemmo uno streaming uno streaming al teatro Puccini che andò molto bene però ovviamente penso che per un comico o per un aspirante comico non sentire le risate del pubblico come fai no è stata una cosa tristissima tristissima infatti mi ricordo quando riaprirono mamma mia una gioia immensa immensa perché il contatto è cioè è tutto diverso a me piace fare video sui social e anche perché veramente ora come ora basta veramente poco per fare dei numeri fino a qualche anno fa impensabili e però l'emozione che ti dà il teatro è infatti tu sei un influencer strano molto strano sui social insomma io ti apprezzo tantissimo non ti ho mai ascoltato a teatro se non in teatro quando abbiamo avuto il privilegio di darti consegnarti il Pegaso della regione toscana il privilegio è mio la prima edizione del Next Generation Fest eravamo al teatro del maggio appunto il teatro più grande della Toscana quindi non è stato male sentirti lì con un pubblico stracolmo felice di abbracciarti e di applaudirti però insomma sui social io ti vedo sempre vedo Jonathan ma in realtà vedo tanti personaggi che hai creato che ormai sono di casa sono straordinari per chi ti segue insomma tra l'altro mi viene anche in mente questo chi c'è dietro di te cioè come puoi scrivere tutte queste sceneggiature queste idee queste battute c'è qualcuno che ti aiuta come quasi tutti i comic insomma per quanto riguarda il teatro vado a vivere con me che è lo spettacolo che attualmente porta in scena la regia l'ha curata Walter Santildo e mi ha dato una grande mano anche nella scrittura l'abbiamo scritto insieme questo spettacolo per cui a livello teatrale quanto ci avete messo a scriverlo? tre quattro mesi più o meno poi chiaramente più che lo porto in scena e più che lo aggiusto lo modifico e sento proprio il bisogno di farlo perché me lo voglio vivere se no rischio di farlo troppo a macchinetta e invece no non deve essere così è ovviamente sempre tutto consiglio di Walter ma e sui social invece? sui social no sui social sono solo per il semplice fatto che non saprei no mi sono confuso sui social chi ti aiuta a creare le battute dei vari personaggi? allora scrivere scrivo tutto da solo ci dedico veramente tanto tempo forse troppo per il montaggio invece ci sono certo ecco quando è che le pensi? ti metti lì e dici ok adesso devo pensare che video fare con questo personaggio col fattore allora con il bornese con la maggior parte delle situazioni sono realmente accadute o a me in prima persona o spesso riportate da amici o conoscenti e poi chiaramente devo prendere queste informazioni queste battute contestualizzarle e diciamo sceneggiarle però fortunatamente anche venendo appunto da un paesino così piccolo dove di cose ne succedono poche se si mette a paragone confidenze compite però sono tutte messe sotto questa lente di ingrandimento e quindi le sappiamo tutti e veramente cioè poi se in cima al paese uno si spacca un'unghia arriva in fondo al paese che si è spaccato tutte le gambe senza braccia insomma lo sai quindi le caricature nel paese ci sono sempre state ci saranno sempre e l'ispirazione vengono dalla quotidianità poi alla fine senti quali sono stati i personaggi che ti hanno un po' ispirato che magari non solo per il mestiere che fai per la passione che segui per il tuo talento ma anche i personaggi che ti hanno motivato nell'andare avanti nonostante momenti difficili nonostante i momenti di difficoltà cioè quali sono i personaggi famosi non famosi i tuoi amici i tuoi parenti che che hanno segnato un po' la tua vita nel bene o nel male certo i miei parenti sicuramente la mia famiglia la mia sorella il mio papà la mia mamma proprio cioè mi hanno appoggiato in qualsiasi cosa mi hanno dato un coraggio che da solo non potevo avere tutto il contrario di come erano all'inizio chiaramente cioè perché quando hanno visto che io non lo facevo per per apparire o per un bisogno di essere al centro dell'attenzione o perché magari ero attirato dallo sbrillucci che io delle luci del mondo dello spettacolo ma lo facevo per un desiderio intrinseco non so neanche che vuol dire che avevo da dentro proprio il bisogno di emozionare il pubblico e di raccontare di raccontare qualcosa e quando hanno capito che era quello il motivo era una forza motrice era quella hanno iniziato a appoggiarmi in modo costante continuo e mi consigliano sempre senza di loro sarei sarei perso perché veramente mi fanno da da genitori da amici da manager se così si può dire e per cui e la mia sorella la mia sorella Bernard se non ci fosse lei perché io purtroppo sui social tua sorella hai quattro anni più piccola di te sì di sorella minore esattamente studia matematica e ogni famiglia ha la sua pecora nera quindi insomma non è che mi dà tanto una mano anche lei sui social è più brava di te a gestirtela sì porca miseria assolutamente estremamente più brava di me poi io arrivo sempre dopo l'ultima ruota del carro e TikTok l'ho messo tipo due anni fa e lei è tipo cinque o sei anni e me lo dice metti TikTok metti TikTok no Martina via stessa lì che gli dici smetti di fare matematica e vieni a lavorare con me magari aiutami magari no ma lei vuole fare la professoressa proprio una cosa totalmente diversa da quella che dalla strada che ho intrapreso io poi matematica per me mamma mia ti farei vedere cosa che lavori fa su quella lavagna c'è una lavagna c'è anche lei c'è un piccolo studio dove ci si infogna tutti i giorni con i numeri no non ci sono più i numeri non ci sono più i numeri no non ci sono più ci sono solo lettere a matematica sì non era lettere era italiano infatti io sono rimasto a elevata alla b c d x pi greco pi greco ma io bene non so come fa però quindi queste sono la tua famiglia altri personaggi che ti hanno segnato che magari hai conosciuto o che magari non hai conosciuto ma ti ispiravano ma del mondo dello spettacolo quello che ti ha segnato nella tua vita sicuramente nel mondo dello spettacolo io se si parla di attori penso che colui che mi ha veramente fatto innamorare della commedia sia Massimo Troisi e lo ripeterò sempre perché non lo so neanche io poi alla fine perché se si va sul tecnico sì chiaro aveva dei tempi incredibili che probabilmente non avrà più nessuno cioè io credo che se un napoletano guarda Massimo Troisi cioè la prima cosa un comico napoletano guarda Massimo Troisi dice e qui che devo fare io cioè nel senso non potrò non potrò mai far ridere come lui perché veramente una comicità incredibile e poi chiaramente ci sono i toscani i benigni i panariello i pieraccioni i veronesi insomma un cinema che ho sempre apprezzato anche in teatro sono andato a vederlo in teatro e sono stati veramente dei punti di riferimento e posso solo che ammirarli insomma hai avuto qualche poster nella tua cabaretta di ragazzo di qualche personaggio sì benigni benigni c'è un film e Nuti anche Nuti grande Nuti sì film che ti hanno segnato un po' che ricordi così senza messaggi sì ricomincio da tre non ci resta che piangere anche se è stato criticato tanto insomma dalla critica mentre invece è stato molto apprezzato dal pubblico è un classico pensavo fosse Amore ma invece era un calesse se si parla di registi Paolo Verzi tra quelli che apprezzo di più mi piace il cinema reale senza bisogno di caricature estreme e penso tipo alla pazza gioia non so se hai avuto modo di vedere il film meraviglioso poi sono ignorante in cinema ti ammiro e ti ascolto volentieri no io diciamo i film ne vedo tanti ultimamente un po' meno devo dire la verità perché arrivo a casa so sfatua da letto cioè no ci provo a a a a si addormenti ma la maggior parte delle volte sono i film che guardano però sì senti hai incontrato poi qualche tua insegnante sai le scelte c'è dei flash ci sta anche di su ci sta anche di su ma non me lo ricordo non ti è capitato non me lo ricordo senti allora poi diciamo che abbiamo raccontato la tua prima parte no però io ho visto ti seguo sui social vedo sempre capodanno hai fatto due capodanni con tante persone come ospiti al teatro di pesce a stracolmo però vedo tante immagini di questo ragazzo toscanissimo che riesce a riempire i teatri della Toscana e devo dire insomma il pubblico toscano siamo tanti 3 milioni e 600 mila abitanti però non è facile riempire in anno dopo anno con lo stesso pubblico quindi vuol dire che sei in grado di prendere tante persone ma io ogni volta che mi ritrovo queste platee rimango sempre sbalordito infatti avrei anche tanti parenti ma insomma quando si va su quei numeri su migliaia non credo che ne abbia così tanti mi ricorderò per sempre uno dei primi spettacoli con una platea importante che eravamo a Ponzacco se non sbaglio al teatro Odeon e alcuni teatri cambiano nome non so se si chiama sempre così comunque mi ricordo c'erano circa 4,50 500 persone davanti appare il fatto che a quei tempi non si lavorava tramite pre vendita per cui non si sapeva quanta gente se ne è venuta e mi ricordo siamo arrivati in teatro erano le tre più o meno di pomeriggio per sistemare le cose fare le prove io entravo in questo teatro vedi tutta tutta questa platea con tutte queste seggie ma dove vogliamo andare e invece poi eravamo dietro le quinte si sentiva che quando ci si avvicinava alle 9 l'ora dello spettacolo la gente inizialmente sentiva questo brusio che aumentava aumentava e io ero dietro le quinte Bernard mi sono pentito di tutto in cui avevo detto ma perché non ho studiato ma cosa ci sto a fare io a casa gli racconta questi e se non ridano ora mi tira la roba un monte di cose mentali non voglio dire quello là insomma poi parto e monto sul palco tutte le emozioni negativi sono sparite in un nanosecondo è stato meraviglioso e ora questa emozione diciamo riesco meno male a domarla diciamo così però è sempre ancora troppo grande cioè c'ho un'ansia come la descrivi questa emozione prima di di aprire di salire sul palco io purtroppo hai visto prima sono arrivato qui che sono tutto sudato perché ho dovuto fare le scale siamo al quarto piano e mi hanno detto ma perché non ha preso l'ascensore perché soffro di calaustropologia oltre a soffrire di calaustropologia soffro anche di vertigini quindi l'emozione che provo prima di montare sul palco è un po' quella che provai a Mirabilandia quando mi costrinsero quasi un regalo un bellissimo regalo a montare sulle montagne russe io arrivai in cima praticamente sei là dove non è che potevi tornare dietro perché c'erano tutti dietro io allora io pensavo di morire a parte il fatto che dovevo stare fisico dovevo guardare sempre a dritto perché se facevo così veramente e insomma montare su queste montagne russe non durante la discesa ma durante la salita quando te sale sale che te lo sai che ormai sei finito ormai quella cosa lì la devi fare un po' ecco ecco questa emozione che provo prima di montare sui parco è esattamente uguale a quello che provavo nel mentre stavo salendo su questo carretto ormai è troppo tardi non puoi dire no vada a casa ci hai pensato ormai devi devi per forza fare quella montagna russa quella discesa insomma ci hai descritto davvero molto bene questa emozione e capisco insomma la difficoltà perché noi a volte abbiamo paura a fare una domanda a fare una battuta davanti a 3 5 10 persone sì sì dover tenere quanto durano i tuoi spettacoli questo dura circa un'ora e 40 per due ore tenere un teatro pieno dove parli solo tu caspita no è stato un percorso è stato all'inizio non era proprio infatti portavi in scena canini come i denti che era un'ora poi palcoscemico iniziavano già sono un'ora e 20 un'ora e un quarto un'ora e 20 poi cappuccetto roggio ora questo in questo diciamo ha qualcosa di diverso da tutti gli altri perché a parte del fatto ho inserito tante cose invece i settordini realmente accadute e ovviamente caricate per cercare di suscitare la risata però c'è tanto di Jonathan lì dentro e ovviamente ci sono anche i personaggi che portano sul web il fattone la risamignata e quant'altro a quale sei più legato? ma sono sincero ti capita di farli magari quando sei in famiglia per trovarli? sì sì a voglia a voglia tipo tipo pamela disaminato ma perché sono legato a pamela perché è quella che piace un po' di più e questa è la verità ma anche senza parrucca riesce a farlo sì a voglia posso andare avanti anche tutti i giorni quindi quando ti chiamano dice Jonathan vieni è pronto a tavola ma questo è un format veramente bellissimo istituzionale ci sono anche le osse della regione lo dite c'hai un lavoro nobile ma perché mi hai chiamato a fare a me mi hai chiamato io senti invece Livornesi quando ti ritrovi a dover fare il baglio Livornesi sono fantastici e esci fosforescente Livorno perché prima ti ho detto non mi sento appartenente a nessuna delle province perché io sono cresciuto poi alla fine più a Calambrone che a Santa Maria Monte perché la mia nonna prendeva la casina al mare e io passavo quando ero piccino perché poi dopo dalle superiori in su sono sempre andato o a lavorare però da piccolo ho passato tanti mesi al mare a Calambrone dalla mia nonna e tutti i miei amici erano Livornesi in particolare uno Nicolás che non ho più visto che aveva un codino biondo era Moro Nicolás se ci vedi insomma fatti vivo se ci vedi fatti vivo perché era questo Livornesi labbronico proprio puro sangue il su Babbo era proprio il classico stereotipo che poi alla fine cerco di portare in scena con la nonna d'oro grossa a questa maniera cioccoli di legno come si chiamava? il ciobabbo nome Livornese dai lasci un nome Livornese Kevin Dylan Valerio anche Valerio Valerio oppure Christopher Annelli quanti? Annelli che è pieno ma più chiaro era questo collanone d'oro grosso attaccato col moschettone delle biciclette Senti ma non è facile però perché giocare sui luoghi comuni magari crea anche offese è vero che in Toscana ci prendiamo in giro quindi siamo abituati ma quando fai queste caricature hai un po' paura o dici sono un comico faccio questo? No la paura c'è sempre 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 perché già di cose che ci fanno arrabbiare ce ne sono tante e non mi ci voglio mettere anch'io insomma però è chiaro che non è che lo posso sempre specificare sto scherzando sono un comico sto scherzando però diciamo spesso soprattutto nelle gag magari un pochino più spinte nella descrizione si scherza questa panaglata allucinante però è così necessario 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 perché assolutamente ma figura di test anche perché mezza mia famiglia è livornese ma chi ti apprezza di più? c'è un pubblico più pisare più livornese più difficile ma io ti rive la verità le le quattro province che faccio più spesso mi hanno sempre dimostrato un affetto ma anche fuori anche fuori sono stato alla Spezia pochi giorni fa e cioè non lo so come sono visti i toscani fuori dalla Toscana? per ora il riscontro è molto positivo poi abbiamo diciamo una cosa che ci ci dà molto un plus il toscano non ha un vero e proprio dialetto e questo ci consente di essere compresi anche anche fuori dalla nostra regione chiaro ora se ti vado ad utilizzare dei termini proprio specifici di Luglizzano di Santa Maria Monte tipo? se lo dico vai 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 c'era un pezzo c'era un pezzo praticamente dello spettacolo vecchio dove io interpretavo il mio babbo che cosce la bistecca lui quando cosce la bistecca non vuole non gli devi di nulla perché è permaloso io una volta mi permisi di babbo ma te la so c'è la bistecca e lui o zopino è uno mia pup dal pomello d'una seggiola persa tutta la credibilità di questo podcast in 30 secondi quando si fece a Roma a questa battuta la gente non capiva però poi per il resto meno male insomma capisciosi tutto senti te ti sei buttato tanti magari di noi hanno la voglia di buttarsi ma la paura è più grande della voglia cosa gli vuoi consigliare cosa ci vuoi consigliare mi metto insieme al nostro pubblico secondo me poi non è chiaramente una cosa oggettiva perché ogni caso è a sé ma se hai passione la passione ti fa ti fa superare veramente tante cose chiaro se si parla di questo settore nel mio insomma sconsiglio a tutti i giovani che magari vogliono semplicemente mettere in mostra oppure ci sono anche queste leggende dei guadagni facili che magari a qualcuno è capitato ma è raro io non ne conosco nemmeno io sinceramente se hai passione non devi avere paura e poi bisogna provare bisogna provare da qualche parte bisogna iniziare è normale sbagliare l'importante è che la passione ti consente di riprovare più volte più volte più volte fino a che non riesci è chiaro che se inizi dici voglio fare l'attore perché voglio guadagnare voglio essere circondato da belle donne e da belli uomini e alle prime difficoltà è chiaro che quando ti accorgi non è proprio tutto come sembra e ti tiro indietro per forza cosa se potessi cambiare qualcosa di te qual è il superpotere che vorresti avere per migliorarti nel tuo lavoro partendo dal presupposto che io ben mi pento di qualsiasi cosa probabilmente se mi mettessi a guardare i video che ho pubblicato probabilmente il 90% li cancellerei subito perché proprio sono fatto così purtroppo non riesco mai a guardarmi è un problema proprio probabilmente anche lentale e il superpotere che vorrei avere è sicuramente essere più più calmo più e anche un po' meno istintivo magari perché a volte ragionarci sulle cose è meglio e la scuola eviterei di buttarvi a tempo così cioè scegliere una scuola che mi poteva interessare a quell'epoca e poi magari cambiarla successivamente però non fare qualcosa perché ti viene detto o perché così a caso ecco quello lo vorrei cambiare senza ombra di dubbio senti io direi che tu hai fatto poi una scuola scuola di cinema come ti ci sei trovato in cosa ti ha aiutato mi ha dato la base tecnica per raccontare una storia in video cioè mi hanno insegnato la grammatica cinematografica mi era chiamata insomma che mi ha consentito di fare dei video magari che senza quelle conoscenze non avrei mai fatto ma poi mi ha anche insegnato a lavorare in squadra perché cioè un conto è quando reciti da solo col telefonino così e vai un conto è quando c'hai una serie di persone intorno che sono lì per te che cioè se puoi sbagliare una volta due volte due volte altre volte però ti rendi conto che quelle lì sono lì per te sono pagate e quindi ogni minuto che passa sono soldi che la protezione perde a causa tua quindi c'hai anche la pressione diciamo la gestione della della pressione me l'ha insegnata tanto anche lo sport anche il calcio il calcio è che ti ha insegnato il calcio lo sport è assolutamente il gioco di squadra chiaro ma anche l'ho capito più chiaro dopo perché c'è un grosso difetto nelle partite che contavano meno magari facevo anche due o tre gol nelle partite dove invece le persone si aspettavano qualcosa da meno diciamo c'è Canini c'è Canini ci pensa lui ciao e andavo andavo in palla totale e questa cosa infatti poi l'ho capita dopo l'ho capita dopo e cerco di mettere in atto ciò che ho appreso in questa nuova avventura perché ripeto io tornassi indietro vorrei fare il calciatore purtroppo poi sono arrivato all'età di 17 18 anni che avevo altri interessi beh non mi fa dire altre passioni e quindi ho lasciato spedere il calcio la domenica mattina insomma dopo un sabato sera è impegnativo non ci si trusceva non ci si trusceva raccontaci qualche imprevisto sul palco che si è avvenuto esatto no ma come hai reagito allora io penso la volta dove ebbi veramente paura fu una sorta di di talent ora vanno queste brutte copie valdera talent no quello era bello quello hai vinto sì quello si è vinto copiccioni spennati me non scorderò più e praticamente eravamo ora un voglio di paese se no sembra e praticamente c'erano questo talent marcio proprio a Pugliano non so dove erano erano un paesino sperduto erano tutti mezzi briari anche gli organizzatori si montò sul palco allora i microfoni non funzionavano grattavano e ogni volta che si prova ad alzare la voce per farsi sentire questi microfoni schiavano tanto la gente proprio davanti un po' perché era bella alterata un po' perché gli si dava noia e alla fine praticamente inizierano a tirarci la roba tipo? di tutto tutto quello che dice di pomodori magari a quest'ora c'erano ancora a pia ci tirarono delle osse fatte probabilmente anche lì per lì molto improvvisate erano delle tovagliette probabilmente le tovagliette della sagra accartocciate scocciate che hanno preso qui proprio un mio amico l'hanno preso pieno ma anche forte perché poi questo mio amico cosa ha fatto? distinto l'ha presa e l'ha ritirata e lì poi ha intervenuto subito il presentatore va bene basta basta e noi siamo andati via lì è stata penso una volta peggiori tutti io non c'erano ancora la macchina 16 a 17 anni poi vabbè le volte che non funzionavano i metrofoni per l'amor di Dio oppure un'altra volta dovevo entra in scena con un cappuccetto rozzo e per fare il cappuccetto rozzo è abbastanza essenziale il mantello rosto no? ecco questo mantello rosso non mi entrava io non riuscivo a capire fatto ricavato da un vecchio cortrone non so se si dice cortrone che è una coperta pesantissima una coperta pesantissima infatti tutte le volte che lo portavamo in scena d'estate era una sofferenza allucinante ben allucinante e praticamente non mi entrava non mi entrava io entra in scena con questo affare tutto torto poi ultimamente no ultimamente diciamo avendo la fortuna di calcare palcoscene importanti c'è un'organizzazione impeccabile quindi non succedono più queste cose ma possono succedere nel senso finito lo spettacolo che succede? finito lo spettacolo intanto mi cambio la maglia mi cambio la maglia perché sudo come non so cosa e mi do una rinfrescata e poi vado vado tra il pubblico vado tra il pubblico perché penso sia il momento più bello perché e poi lì capisco se lo spettacolo poi alla fine è andato bene o no perché si legge negli occhi è una situazione talmente surreale che fatico ogni volta fatica a crederci ogni volta fatica a crederci poi ci sono bimbi che mi portano sempre un monte di roba mi portano i disegni le maglie ora vanno le firme sulle cover o proprio addirittura sul telefono una roba allucerata c'è un bimbo mi ricordo mi chiede ma sarà venuto non posso girare ma venti volte e c'è una maglia tutta firmata da me sono cose incredibili è un me lo ricordo è un me lo ricordo sicuramente ci starai guardando dai salutalo sì penso di sì non vorrei sbagliare io mi ricordo se è o Joshua o Joelle è di Livorno potrebbe essere lo salutiamo lo salutiamo senti tu sei un comico sei un intrattenitore tante cose se tu dovresti descrivere la tua vita o se tu dovresti descrivere Jonathan Canini con una battuta Jonathan Canini con una battuta con una battuta e proprio ti piace ma allora sì non lo so stanno frullando talmente tante idee in testa perché all'inizio raramente mi chiamavano per nome sono stato per un periodo bimbo umbe che è un vecchio video che figli tra Pisano e Livornese sono alla fine bimbo umbe bimbo umbe magari erano persone che neanche conoscevano il mio nome però l'avevano visto per video quindi ero bimbo umbe poi ora sono spesso anche se è un grande se è un grande se è un grande ma la gente passano accanto se è un grande grazie ma poi è una roba fantastica alla cresima del mio cugino che lì allora entrai dentro questo ristorante un bimbetto si arzò mi indicò e disse guarda mamma c'è il fattone no pietrifiato io non sapevo se meno male che poi un'altra signora mi riconobbe è un personaggio non è un fattone sì sì è una cosa fantastica fantastica e non so riassumermi in una parola che ti piacerebbe conoscere di personaggi famosi del passato che quindi non ci sono più e del presente Massimo Troisi forse ce l'hai detto sì sì Massimo Troisi ma è chiaro Benini e Paolo Vergili perché appunto il suo cinema io lo adoro visto film anche quando li ripassano in televisione li riguardo sempre volentieri e mi emoziono come se fosse la prima volta sembra sembra retorica ma non è così perché riesce a trasmettere qualcosa che va oltre all'immagine è veramente un maestro incredibile poi ce ne sono tanti ho avuto la fortuna ora sicuramente non si ricorderà di me Pippo Baudo perché sono stato a Sanremo nel 2018 come lavoravo come fotografo in uno stand e abbiamo avuto anche Pippo Baudo e ho avuto l'onore di stringergli la mano e gli hai fatto il verso no? no non gli ho fatto il verso ma è stata una bella emozione più chiaro perché ho visto tutte le interviste che ha fatto Massimo Troisi per cui sicurati e soparmolo davanti è stata una bella emozione bello senti sui giovani di oggi cosa pensi incontrandoli tanti leggendoli sui social io non li invidio per niente perché diciamo poi magari ci saranno anche dei cambiamenti in futuro però il mondo oggi mi sembra un pochino più complesso sotto tanti punti di vista però io lo dico da sempre a me mi sembra che i giovani d'oggi siano molto meglio rispetto a quelli che c'erano prima poi chiaro l'entropia tende a crescere sempre per forza non è che si possano disimparare le cose mi sembra che proprio ci sia un livello di coscienza e di cultura più elevato cioè se io prendo un ventenne di oggi e un ventenne di magari cinquant'anni fa hanno la stessa età ma hanno due coscienze molto diverse secondo me probabilmente anche grazie a internet che ha permesso a tutti di accedere a più informazioni e questo ha fatto sì che appunto le coscienze si innalzassero in modo quasi esponenziale poi chiaro ci sono più rischi forse ci sono più rischi senza ombra di dubbio però ho molta stima dei giovani di oggi e quando mi capita di parlare con qualcuno di loro vedo tanta speranza e credo che il futuro sarà migliore ed è un paradosso perché tutto quello viene detto oggi però credo che i giovani di oggi siano molto meglio rispetto a quelli di ieri mi ci metto anch'io nel mezzo senti cosa cosa vedi nel tuo futuro nel mio futuro al futuro immediato devo ritrovare la macchina perché non so dove l'ho parcheggiata non mi ricordo dove l'ho parcheggiata futuro magari un pochino più in qua io spero di avere la possibilità di raccontare una storia un pochino più completa che sappia emozionare il pubblico sotto più aspetti magari non solo tramite la risata senza troppi cini di parole il mio sogno è quello di fare cinema e speriamo di avere l'occasione perché insomma non è sempre questo fenomeno è andato un po' a svanirsi negli ultimi anni però soprattutto prima si pensava che quelli che fanno il web poi a un certo punto andassero per forza o in televisione o al cinema o in teatro sono due cose più cose totalmente diverse tra loro è un linguaggio è un altro tipo di linguaggio proprio è come fare il meccanico o l'elettricista entrambi lavorano con le mani entrambi sanno usare gli attrezzi ma per fini diversi e quindi non so neanche che ho detto ti carpererebbe fare cinema l'abbiamo capito continuare ad andare al teatro i social vanno fatti però ti piace incontrarci di persona sì sì senza ombra di dubbio senza dubbio teatro e cinema per me sono delle passioni che non riesco neanche a descrivere il teatro perché chiaro c'è un'empatia incredibile e il cinema perché mi potrebbe dare la possibilità di raccontare una storia un pochino più completa perché ora lo sai anche te i tempi del web sono veramente serratissimi quindi di 30 secondi un minuto e senti chiudiamo questo podcast perché io starei qui per ore però io vorrei ecco vorrei da te che comunque sei uno che ne ha passate tante che si è fatto da solo con il sostegno certo di tanti ma senza la tua voglia probabilmente non saresti qui oggi quindi lo devi principalmente a te stesso qua ci seguono soprattutto tanti giovani dai un consiglio no io ti chiedo un consiglio loro ti chiedono un consiglio dici qualcosa visto quello che tu hai vissuto quali sono i consigli che vuoi trasmettere quali sono le lezioni che hai imparato fuori da luoghi comuni da stereotipi che spesso i social raccontano la società di oggi racconta ma sicuramente come ho detto prima seguite le vostre passioni questa è una cosa fondamentale e poi non abbiate paura a soffrire perché la sofferenza fa parte del gioco poi alla fine l'importante è trarre da essa l'esperienza diciamo a volte fare un errore ti insegna di più piuttosto che fare la cosa giusta perché dopo aver fatto l'errore sai che quella cosa lì non la devi più fare quindi le probabilità che la volta dopo tu faccia una cosa positiva sono più elevate è sempre così sempre così e poi l'esperienza penso che sia l'insegnante più brava di tutti non c'è un mentore un libro che ti possa insegnare quanto è l'esperienza per cui non abbiate paura di sbagliare questo penso sia il consiglio che voglio dare guarda hai tanta ragione cioè io credo che sia proprio il principale problema oggi cioè a volte c'è un talento talenti dentro di noi che sono bloccati cioè c'è un potenziale talmente grande nella nostra società nella nostra generazione che viene buttato via non viene espresso per questa paura sì ma perché anche questo è un lato probabilmente negativo anzi senza probabilmente del web che consente a tutti di dire cose probabilmente anche senza pensarci molto le dicano così di istinto senza contare che dall'altra parte c'è una persona che magari si è impegnata per creare un determinato contenuto e magari viene offesa e questa penso sia un problema un problema grosso però insomma io vedo un futuro roseo perché dipende da noi esatto hai scoperto che sei riuscito a cambiare la tua vita a seguire i tuoi sogni quindi io non so se sono riuscito a perché quando mi vengono fatte determinate domande cioè la mia testa deve filtrare talmente tante cose che partano da qui e poi diciamo non arrivano subito alla bocca perché altrimenti veramente rischierei di dilungarmi e di fare il classico pippone l'ho detto l'ho detto e per cui devo filtrare ma ce ne sono talmente tante perché io mi sento non fortunato di più miracolato quasi perché poi chiaro la fortuna me la sono anche un pochino cercata però nessuno mi ha mi ha dato una mano per cui dall'impegno dalla fatica da sicuramente inseguendo il proprio sogno la propria passione ma la propria passione dal latino passus è patimento è sofferenza sì sì giusto non bisogna avere paura di soffrire senti io devo dirti che ci hai dato tante lezioni fuori da luoghi comuni davvero con la tua esperienza a volte appunto i pipponi li fanno quelli che dicono delle cose ma ne fanno altre tu ci hai raccontato quello che hai fatto quindi davvero grazie sei uno straordinario esempio positivo ed è giusto che i giovani toscani possano anche trarre ispirazione da ragazzi come te veri speriamo bene io ti ringrazio saluto tutti quelli che ci hanno guardato e a presto salutiamo Jonathan Canini che è un presente meraviglioso appunto non è solo il futuro da giovane ma è già il presente già riempie i teatri e lo seguiamo in tantissimi sui social quindi continuiamo a farlo un giorno potremmo dire al cinema io lui lo conosco ed è quello che gli auguriamo di fare una carriera straordinaria nel mondo del cinema ce lo auguriamo e lo sosterremo per questo a voi vi dico che vi aspettiamo qui nei commenti su youtube su instagram su tutti i social e vi aspettiamo la prossima puntata del podcast siamo presente sempre con Giovani Sì il progetto che la regione in Toscana ha per l'autonomia dei giovani grazie e la fiducia alla prossima ciao 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 Grazie per la visione!